Aggiornamento di Calciomercato Inter con una notizia molto importante da tenere d'occhio e sta emergendo in queste ore perché pare che il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio assisterà alla sfida tra Albania e Repubblica Ceca dove ovviamente si monitorerà i progressi del nostro Cristian Aslani con la maglia della nazionale ma con l'occasione a quanto pare ci sarà anche un osservato speciale il possibile grande colpo dell'Inter a parametro zero per il 2024 si tratta di Thomas Socek capitano della Repubblica Ceca di cui parliamo in questo nuovo episodio di oggi allora ben ritrovati innanzitutto amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi vi invito subito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrizione al canale clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri aggiornamenti stiamo per portarvi degli approfondimenti importanti che arriveranno nei prossimi giorni quindi mi raccomando iscrizione subito lo so che parlare di mercato in questo momento fa un po' strano però il caso Onana il caso Turam per certi versi dovrebbero avere ormai insegnato che certi tipi di trattative vanno coltivati per tempo in anticipo soprattutto quando di mezzo ci sono dei giocatori in scadenza di contratto con una serie di pretendenti molto importanti e quindi sono giocatori molto appetiti con una lunga concorrenza e l'Inter in questo diciamo che negli ultimi anni si è sempre dimostrata molto attenta alle occasioni a parametro zero pronta a cogliere le varie opportunità senza quindi pagare il cartellino di eh giocatori che si sono rivelati poi importanti in alcuni casi delle plusvalenze rilevanti tra i nomi più interessanti quindi per il duemilaventiquattro dove possiamo aspettarci ragionevolmente un altro colpo almeno tra i giocatori di scadenza c'è sicuramente quello di Thomas Socek che secondo varie fonti che ne parlano già da qualche giorno sarebbe nel mirino dell'Inter appunto anche se devo dirvi devo mettervi in guardia c'è un po' un mistero attorno a questo calciatore mi spiego eh in Allora l'ufficialmente ufficialmente è in scadenza di contratto con il West Ham al trenta giugno duemilaventiquattro c'è in questo contratto una opzione diciamo in favore soprattutto del giocatore per estendere il contratto di eh una stagione soprattutto ma in Inghilterra c'è chi sostiene che abbia già firmato qualche mese fa un nuovo accordo per prolungare il contratto allo stesso tempo però devo dire che per ora non sono arrivate conferme ufficiali né da parte della società né da parte del giocatore dell'entourage e soprattutto non c'è stato alcun annuncio né firma da quello che eh emerge quindi considerando che a inizio duemilaventiquattro sarà quindi eh libero di accordarsi con una nuova società per l'estate prestiamo attenzione. attenzione. Anche perché poi questa notizia su Socek apre anche ad una serie di riflessioni sul centrocampo dell'Inter con dei riflessi di mercato da tenere d'occhio quindi ne parleremo alla fine. Prima però brevemente chi è Socek per chi non lo conoscesse. Condivido la scheda da transfer market con una sorta di carta identità di questo centrocampista dicevamo nazionale cieco nato il ventisette febbraio del millenovecentonovantacinque centrocampista mediano alto un metro e novantadue quindi grande stazza fisica ehm si trova al West Ham dal duemilaventi lui che ha svolto gran parte della sua carriera in patria prima di volare in Premier League prima in prestito poi è stato riscattato ed è diventato uno degli idoli del West Ham soprattutto quest'anno dopo l'addio di Declan Rice sta riprendendo molto bene un ruolo centrale nella manovra del West Ham e ehm ha una valutazione secondo transfer market che prendiamo sempre molto con le pinze ma ci dà un po' la dimensione di questo calciatore una valutazione da trentacinque milioni di euro del cartrino quindi poterlo prendere a parametro zero di sicuro di base è una grande opportunità capitano della nazionale cieca già da un paio di anni e vanta oltre sessanta presenze con la maglia della selezione appunto maggiore queste quindi sono le informazioni generali eh di Thomas Socek un eh giocatore che come detto centrocampista tendenzialmente mediano in un centrocampo a due nel quattro due tre uno del West Ham con un altro mediano accanto eh solitamente eh ma come zone di diciamo di gioco come zone d'azione occupate fa un lavoro anche piuttosto simile a quello che fanno le mezze ali nel tre cinque due quindi eh diciamo che in qualche modo si può anche definire un centrocampista box to box così come eh dicono in Inghilterra molto spesso si abbassa anche da aiutare la difesa è molto mobile in questo un giocatore di grande fisico oltre un metro e novanta come dicevamo di rottura soprattutto pericoloso però anche in zona gol sia grazie ad un bel tiro gli inserimenti ma soprattutto è molto forte di testa e ha dei numeri importanti addirittura alla sua seconda stagione in Premier League arrivò a segnare addirittura dieci gol l'anno scorso un pochino meno quest'anno è già ripartito molto bene con quattro gol e un assist mi sembra di ricordare nelle prime dieci partite. secondo i numeri secondo i dati è tra i migliori centrocampisti in assoluto in Europa per duelli aerei vinti dove è davvero dominante nella prima stagione in Premier League addirittura è stato il primo giocatore in assoluto per duelli aerei vinti più di duecento poi si è sempre confermato tra i primi cinque o sul podio addirittura per farvi capire un po' a che livello siamo. poi è molto forte anche a livello statistico molto in alto sulle azioni difensive a liberare l'area di rigore quindi ad intervenire in rottura mentre è un po' meno impiegato come passatore non è un giocatore diciamo clamorosamente tecnico che partecipa alla costruzione della manovra che nel West Ham viene invece affidata ad altri elementi. oltre a questo poi dicevamo ha un grande feeling con il gol con i vari numeri che vi ho già detto. è un giocatore che quindi per caratteristiche manca in questo centrocampo dell'Inter sarebbe di fatto l'unico centrocampista più alto di un metro e novanta e in grado di portare quella fisicità di cui si è tanto parlato anche la scorsa estate lo ricorderete si diceva spesso che Inzaghi avrebbe voluto se non Milinkovic Savic stesso almeno un giocatore alla Milinkovic Savic salvo poi finire per puntare su Klassen che è sicuramente molto diverso. ecco anche Socek è diverso da Milinkovic Savic soprattutto dal punto di vista tecnico ma fisicamente e anche per esperienze che ormai ha accumulato può darti delle soluzioni alternative che oggi all'Inter non ci sono come ad esempio la possibilità anche di farlo alzare in alcuni momenti sulla linea degli attaccanti a fare la sponda su quei palloni alti come avveniva un po' anche con Milinkovic Savic e Immobile nella Lazio che giocavano anche in questo modo. La riflessione da fare però è che vi sottopongo è che l'Inter oggi ha un reparto di centrocampo già piuttosto profondo perché senza contare Agumet ci sono già sette elementi a disposizione di Inzaghi lì in mezzo. Di questi va ovviamente ricordato che Sensi, Klassen e Mkhitaryan sono di fatto in scadenza di contratto. Sensi direi che andrà via. Per Mkhitaryan si stanno già facendo dei discorsi visto che per Inzaghi è un giocatore molto importante nonostante i 35 anni che compirà a gennaio ma bisogna vedere. E Klassen non abbiamo ancora avuto modo di valutarlo quindi non sappiamo bene ancora che giocatore che impatto può avere sull'Inter quindi deve convincere i dirigenti e l'allenatore poi a confermarlo. Per cui visto tre giocatori in bilico è abbastanza normale che qualcosa all'Inter si stia già monitorando per il 2024 soprattutto perché come dicevamo Socek è uno dei giocatori più interessanti tra quelli in scadenza quindi bisogna muoversi per tempo per anticipare la concorrenza soprattutto quando si presenta questo tipo di opportunità. Attenzione però ad un dettaglio perché Socek è un giocatore che va verso i 29 anni e se lascerà il West Ham dove è comunque un idolo e si trova bene immagino lo farà per un passo in avanti sia economico che tecnico. L'Inter ovviamente è un club non me ne vogliono però più importante del West Ham di certo però non verrebbe con tutta questa disponibilità da accettare di essere il quinto o addirittura sesto centrocampista. E soprattutto la cosa che vi metto sul tavolo come riflessione è che come zona di azione nel West Ham in alcuni casi gioca sul centro-sinistra è vero ma principalmente si muove sul centro-destra una zona dove oggi l'Inter ha già Frattesi e Barella sul quale tra l'altro al momento non sento notizie di rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2026 mentre altri giocatori in scadenza nel 2026 stanno già discutendo il prolungamento con l'Inter. Detto ciò per tranquillizzare un po' tutti su questo e per aggiungere un'altra riflessione che molti sottovalutano una squadra come l'Inter deve ambire ad avere tanti giocatori forti in ogni reparto soprattutto considerando che dalla prossima stagione le partite aumenteranno ancora in maniera considerevole. partendo soprattutto dalla nuova formula della Champions League il possibile mondiale per club eccetera eccetera quindi serve una rosa profonda con più calciatori forti. vedremo se uno di questi sarà Socek se ci saranno ulteriori aggiornamenti ovviamente ve li faremo avere sui nostri canali fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo calciatore se vi piace oppure se ci sono secondo voi dei centrocampisti scadenza nel 2024 ancora più interessanti da andare a prendere. io vi invito a fare un salto su passioninter.club per sostenere il nostro progetto se vi piace quello che facciamo ogni giorno ci vediamo poi in diretta alle 19.30 e nel frattempo vi lascio per chi ci ascolta in podcast un approfondimento da non perdere lo trovate in descrizione per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui. Ciao a tutti